Non ce la farò mai! Io ho scritto circa 200 pezzi se avessimo dovuto montare tutti i guarentini ci avevo messo due anni, capito e se non avevo montato i 12 o 13 ma comunque adesso facciamo una canzone invece più moderna che è stata l'anno scorso non sarete sinta per le attività non sarete sinta per le attività